Nella sua vita ormai decennale penso che Il Morto, la creatura di Ruvo Giovacca e Paolo Telloli, edita da Menir, la casa editrice dello stesso Telloli, abbia compiuto dei passi da gigante. Su questo canale, nella playlist edicola, che è quella playlist che raccoglie un po' quei personaggi, quelle serie che non seguo con grande regolarità, trovate una recensione vecchia di ormai un anno del Morto. L'albo, adesso non ricordo il numero, comunque si chiamava I Giardini di Marzo, titolo Battistiano. In quella recensione esprimevo tutta la mia perplessità su questo personaggio, che comunque, come dissi allora e come ribadisco adesso, merita attenzione, merita di essere sostenuto, in primo luogo perché riporta un po' un personaggio nero in edicola che non sia diabolic e che sia di ambientazione contemporanea, ma poi anche perché è un fumetto di ambientazione nostrana, italiana. Questa è una cosa cui io tengo molto, insomma, mi piace molto l'idea di un fumetto da edicola ambientato in Italia che tratta temi italiani. Oltretutto, qualche tempo fa ho avuto modo di seguire una live molto interessante. C'erano, tra gli altri, mi pare, Gaspar del canale Aspano83 e Alex di Agenzia Alpha, adesso non ricordo tutti i partecipanti. L'ospite d'onore era Paolo Telloli e devo dire che è stato bellissimo sentirlo parlare perché, come dire, era sicuramente il testimone di un'editoria che ora non c'è più e che lui in qualche modo tenta da grande idealista di portare avanti. Dopo tanto tempo, beh, dopo tanto tempo, in realtà avevo letto anche il numero precedente, comunque dopo tanto tempo decido di portare sul canale una nuova recensione del morto e il numero 57 si intitola Spie. Ecco la bella copertina che, come sempre, guarda un po' alle copertine stupende che Corteggi disegnava per Criminal e Satanic. Soggetto di sceneggiatura sono di Ruvo Giovacca, che io durante quella live mi sono permesso di chiedere a Telloli se Ruvo Giovacca esiste, perché non si trovano foto online, si sa pochissimo, un po' un salinger del fumetto, le matite di Claudio Delia, Alfonso Elie e Vasco Gioacchini, che si occupa anche delle chine, e la Splash Page che apre l'albo di Ermete Librato, e ve la faccio anche vedere. è un albo che mi ha interessato fin dal titolo, perché io sono un appassionato di storie di spionaggio, ma adesso ci arriviamo, e comunque mi sembra che nel corso degli anni, questo l'avevo già detto nell'altro video, anche se, come ho già detto e speriamo perplessità, nel corso degli anni ci sia stato veramente un accrescimento della qualità, sia per quanto riguarda le sceneggiature di Ruvo Giovacca, io ricordo ancora il primissimo numero del morto, a suo tempo l'ho comprato e letto, mi era sembrato, diciamo dal punto di vista del disegno dell'intreccio, un po' raffazzonato, però sicuramente dovrei rileggerlo, è passato tanto tempo, non ho conservato il numero, quindi è un parere che va preso un po' così, ma non penso che rileggendolo cambierei idea, invece mi sembra che ultimamente il morto sia veramente diventato un personaggio complesso, con una sua cosmogonia tutt'attorno e soprattutto con la volontà di fare delle storie molto italiane, in fondo credo sia un po' uno specifico della Meniere Edizioni, perché ho notato la stessa tendenza anche in Spettrick, come dicevo. Poi in questo numero troviamo la città di Genova come set, troviamo una gustosa citazione, devo dire, e questa citazione la si vedeva anche dalla splash page che vi ho mostrato, di un film di 007, Una cascata di diamanti, dove Bond veniva aggredito da due donne esperte di arti marziali che lo mettevano in seria difficoltà e la dinamica si ripete un po' in in questa sequenza che vi sto mostrando, fino a quando appunto Peg, alias il morto, riesce a ridurre a più miti consigli le due ragazze, che si chiamano Bambi e Tambi, esattamente come nel film di James Bond si chiamavano Bambi e Tamburino. Una citazione che ci sta tutta, perché troviamo Peg coinvolto in una storia di spionaggio e citiamo così lo spionaggio popolare, quello appunto di 007 e dei suoi pigoni, per eccellenza. La continua indagine, in fondo tutto il morto ha questa struttura orizzontale nella quale Peg, il nostro personaggio, tenta di scoprire qualcosa del suo passato. Nel primo numero l'avevamo trovato in una casa di cura per malattie mentali, non aveva più memoria di se stesso e questi 57 numeri rappresentano un avvicinamento alla scoperta del proprio passato. E qui viene fuori che oltre che militare, quindi oltre che nell'esercito, Peg ha avuto una militanza anche nei servizi segreti. E ci viene detto qualcosa di più rispetto al solito. Dispiace forse che tutta questa, diciamo questo retroscena del personaggio venga centellinato con così tanta parsimonia che, come dire, una parsimonia che raddoppia se pensiamo che non sempre le uscite del morto sono proprio puntuali in edicola. E questo è dovuto anche alle difficoltà che la Menhir incontra. Resta il fatto comunque che c'è una, devo dire, l'asticella della qualità si sta alzando. Questo lo trovo molto bello. Trovo che proprio in virtù di questa cosa meriti maggiormente ad essere sostenuto. Telloli, tra l'altro, in quella live di cui vi parlavo, entrava, devo dire, nel tecnico, ci diceva, tra l'altro, certe impressioni che avevo erano vere, cioè gli sfondi sono sfondi preimpostati, presi da fotografie, su cui poi i disegnatori aggiungono i personaggi. E anche la bravura dei disegnatori, se vogliamo, è accresciuta. All'inizio si aveva quasi l'impressione di vedere fumetti creati da un computer. Devo dire, questo Albo del Morto l'ho letto veramente con passione e divertimento. Sì, ecco, vorrei dire sosteniamolo, ma sarei un'ipocrita, perché anch'io non lo compro tutti i mesi. Però resta il fatto che è l'unica alternativa nera a Diabolic, non perché abbia nulla contro Diabolic, io vorrei più fumetti neri, mi piacerebbe tornare agli anni Sessanta. Ed è più un ero di Diabolic, ecco, cioè è veramente un racconto crudo, cinico, come d'altra parte ha messo in luce nella sua bella recensione a questo numero Alex di Agenzia Alpha, che poi lo ha potuto apprezzare anche maggiormente perché Alex è di Genova e quindi ha trovato un po' la sua città tra le pagine del morto. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.